A termine Vai a via Ex giocatori E infatti Ex giocatori della Roma Adesso vedremo Ciccione entrare E non arrivano più Vabbè ma abbiamo intentato di giocarlo Non arrivano più Felicità Ciao 13 Cioè con il genoa c'è tutto dentro Noi siamo ancora a fare i giri Vai a via Vai a via Vai a via Vai a via Vai Arnan Vai Josep Vai Murigno Vai Murigno Vai Victor Che non capisce sta guardando Tipo li stanno dicendo Ibra Adriano Muntari Vai Taldone Vai Taldone Bella Ora direi che possiamo andare Noi c'è tipo Maradona E ci ho mangiato Infatti la gente si è data Giustamente E c'è là tipo Maradona